Con De Laurentiis avete preso un caffè parlando anche di cinema, della prossima Film Commission in Abruzzo, cosa bolla in pentola con la Filmauro? Beh è evidente, non solo con la Filmauro, noi il 19 luglio stiamo organizzando un grande evento di presentazione e di confronto con il mondo dell'industria cinematografica e delle varie Film Commission, dei produttori, insomma un po' tutte le categorie che ruotano intorno al mondo del cinema e a questa grande industria per presentare e per anche ascoltare suggerimenti utili per realizzare, per costituire la nostra Fondazione Film Commission nel modo migliore e anche prendendo spunto dalle esperienze e dalle buone pratiche esistenti in giro per l'Italia, quindi stiamo invitando e inviteremo tutto il mondo del cinema, Aurelio De Laurentiis in questo è un assoluto protagonista e il suo amore e il suo rapporto con l'Abruzzo nel settore del calcio spero che possa anche produrre occasioni importanti per l'Abruzzo nel campo della produzione cinematografica.